Ti devo parlare. Riguarda il caso che vuoi tenermi nascosto? Non io, la Catti. Foreman? Non hai battuto ciglio davanti a una ragazzina di 16 anni che potrebbe morire a breve. Quindi hai un paziente più giovane che potrebbe morire ancora più in fretta. Ha bisogno di te. Ma ha già te. Quel bambino sta per morire. Sei così egoista da permettere. Il buo che dice cornuto all'asino. Sei un ipocrita. Il tuo lavoro è scoprire cosa uccide i pazienti. Lo devi aiutare. Invece fai il gran manipolatore per dimostrare che solo tu hai il potere. Volevi una cosa tutta tua? Adesso ce l'ho. Grazie. 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 Grazie.